Oggi il riflettore per Spazio Cultura si accendono su Teresa Riccobono, che noi vogliamo conoscere da vicino. Allora, che cosa fai nella vita? Chi sei? Sono un'insegnante in pensione da poco, mi dedico al sociale, scrivo poesie, la poesia è il tutto mio. Scusate un po'... L'emozione, comunque non fa niente. Allora, qual è il tuo rapporto, è stato il tuo rapporto con gli allievi? Un rapporto fermo perché quando si lavora bisogna avere le regole e rispettarle. Quando si lavora e si studia non do spazio a lasciarsi andare. Però quando poi tu sei in classe nelle ore, chiamate così, di relax, perché c'è, ci sono queste ore, ecco, l'insegnante diventa la confidente dell'allievo. Adesso entriamo nel merito dei tuoi libri. Tratteggi sul filo, di che cosa? Il filo della condizione femminile. Ecco, 36 donne si raccontano al femminile. In questo libro, curato da una raffinata poetessa che è Mariolina Lamonica, 36 donne si confessano, confessano i loro bisogni, il loro cammino verso qualcosa del cambiamento, il cambiamento che viene attraverso un ripensamento, un andare dentro le proprie coscienze. Chiudiamo con una poesia dedicata al T.G. Rosa. Quale? Serenata Lasciatemi come un tempo ancora cullare nel cielo astrale Dove altalene d'argento mi spingono Verso gli ulivi che abbracciano la mia casa natale Portatemi ancora alla sorgente A bere con le mani a conca L'acqua pura delle mie montagne E tu, padre, intonati prego Con la tua chitarra struggente Le note stanche di una vecchia milonga Ed io, piccola stella di tulle Danzerò a piedi nudi Sottipine accesi di lucciole Fino a che La mano del tempo Capovolgerà la sfera dei sogni E la lascerà coprire di neve Partinico ti ringrazia Grazie a voi E adesso sul libro Sulla porta Sentiamo l'editore Innanzitutto buongiorno a tutti Grazie per lo spazio che ci state offrendo oggi Niente, io da parecchi anni ormai conosco Teresa Riccobono È un'autrice, una poetessa molto apprezzata Nel panorama siciliano Ma anche oltre lo stretto Ha vinto numerosi premi Chi la conosce sa quali sono i suoi successi Niente, si è rivolta a me come editore Alla mia casa editrice Edizioni Drepanum Quindi non ho potuto fare altro che Come dire, accogliere la sua richiesta Di pubblicare questo libro Sulla porta Dove Teresa Riccobono Raccoglie, diciamo, le sue più belle poesie La sua produzione poetica Niente, la cosa che mi colpisce Di Teresa Riccobono A parte questa sua grande passione Per la cultura in genere Ma per la poesia in maniera Propriamente detta Ma il suo linguaggio poetico È un linguaggio, come dire Altamente di elevato spessore lirico È una poetessa Che si cimenta sia in italiano che in siciliano E consegue dei risultati sempre eccellenti Perché? Perché sa attingere Sa attingere proprio dentro la sua anima Le parole più belle Le frasi più poetiche E i risultati sono sotto gli occhi di tutti